Certo che questa è proprio l'ora di quelle serate, ma questa è un'espasione. Regia, un po' di dolore. Certo che loro sono stati proprio grandi, i Froszi e i Osti, ma mi caro tutti, ma un guanto, che è quanto. Figo, dai tu, aspetta un minuto. Buonasera maestro, come sta? Ma questo è il suo? Sì, oh, è pensare che non ci vedete da tanto tempo, eh. Allora, lui è stato qui con uno dei suoi ultimi spettacoli. Che grande artista che è. Che grande artista che sei. Sì, sì, sì. Qualcuno dice il più grande, ma ve lo ricordate? Lo chiamavano il re del popolo. E tra lo scandalo e l'altro, è sempre comunque rimasto con noi, qui. Ha lasciato la musica, ha lasciato la storia, ha scritto le pagine della storia del popolo, anche da mostro. Signore e signori, lui non ha bisogno di presentazione, lui è Michael Jackson. Ass能θη, che grande artista che è più riding. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.